Il Presidente del Senato della Repubblica Il Presidente della Corte Costituzionale facente funzioni Giuliano Amato presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il Dottor Filippo Patroni Griffi, giudice della Corte Costituzionale eletto dal Consiglio di Stato il 15 dicembre 2021. Giuro sul mio onore di osservare realmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato esercitando la mia funzione di giudice della Corte Costituzionale nell'interesse supremo della Nazione. Grazie Grazie Del giuramento del giudice della Corte Costituzionale Filippo Patroni Griffi prestato oggi 29 gennaio 2022 in Roma nel Palazzo del Quirinale nelle mani del Presidente della Repubblica è stato redatto di istinto verbale firmato dal giurante, dal Presidente della Repubblica dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati Grazie 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 a tutti.